Alberto ci chiede, sono in cura per fibrillazione atriale ed è vietato per me il Viagra? Sentiamo la risposta Alberto. In cura per fibrillazione atriale il Viagra non è controindicato. Il Viagra ha pochissime controindicazioni nell'ambito cardiovascolare e sostanzialmente queste controindicazioni riguardano i malati che hanno un problema coronarico e che stanno assumendo i nitrati, per esempio i cerotti trasdermici oppure prendono nitrati per bocca. In questo caso il Viagra è assolutamente controindicato. Prudenza va utilizzata anche quando si usano dei vasodilattatori. Tuttavia questo non dovrebbe essere il caso del paziente con fibrillazione atriale, a meno che non ci siano altre patologie associate. In ogni caso è opportuno che l'uso del Viagra sia sempre preceduto da una prescrizione medica e che il suo impiego venga discusso e concordato con il medico di famiglia o specialista. Però le sue controindicazioni assolute sono piuttosto limitate. È un farmaco che può essere in generale di beneficio per i pazienti.